Credo che sia un progetto importantissimo per la città di Catanzaro, l'operazione che stiamo cercando di fare di lavoro globale è quello di far conoscere la nostra storia, la nostra tradizione innanzitutto ai catanzaresi stessi e poi ai turisti che ci auguriamo incrementino successivamente. Ovviamente scegliamo di fare un investimento sulle scuole, quindi sulla generazione che è più plasmabile. Abbiamo bisogno che crescano catanzaresi con una visione di Catanzaro molto più bella di quella che spesso ci viene tramandata dai nostri genitori e dai nostri nonni. Abbiamo bisogno di creare e di far crescere e di alimentare quel sentimento di catanzaresità che effettivamente ci appartiene sempre troppo poco. Questa iniziativa, come le altre che sta seguendo questo assessorato, sono mirate appunto a riuscire a far conoscere e a valorizzare il nostro territorio. Ovviamente abbiamo la preziosa collaborazione di Angela Rubino e di questi ragazzi di San Floro che effettivamente sono rientrati, hanno scelto di rientrare a Catanzaro per poter riprendere questa tradizione e renderla fruibile ai molti. Il progetto è work in progress, si parte da qui, però ci auguriamo ovviamente di riuscire a dare sempre più spazio e sempre più visibilità a quelle che sono queste tradizioni e queste assolutamente importanti per la città di Catanzaro, fondamentali direi. Un progetto che è nato sulla scia di Baco da Seta, il progetto ideato e lanciato dalla cooperativa Nido di Seta di San Floro, che su Catanzaro riguarda sostanzialmente un'attività che intreccia il racconto storico sull'arte della Seta a Catanzaro anche delle attività educative e sensoriali. L'idea che sta alla base di questo progetto è quella di riprendere, recuperare la storia dell'arte della Seta a Catanzaro e di farla conoscere a tutti i ragazzi, i studenti della Calabria e poi quella di valorizzare e promuovere anche il centro storico di Catanzaro, cioè quei quartieri storici della città che sono molto importanti perché ci raccontano le nostre radici, ma che sono messi ai margini. Quindi noi vogliamo recuperare, valorizzare queste zone e mostrarle in tutto il loro fascino. Quest'anno abbiamo, questa è la terza edizione del progetto Trami di Seta e quest'anno abbiamo una più larga rete di collaboratori, di partner che ci sostengono perché credono nella nostra idea e questo ci rende felici e ci dà la carica per proseguire sempre meglio.